Il mio materiale ha aiutato, come molti altri ragazzi dell'Italia e dell'Europa, sono sicuro di questo, perché lo conosco, è di dare il soldato, di mandare il soldato alle organizzazioni che conosciamo, e da qui sappiamo come spendere il soldato, per una scuola, per un campo di basquetball, non lo conosco. Quando ho avuto tre volte, abbiamo chiamato il soldato e i giochi. Abbiamo chiamato il soldato, abbiamo chiamato la pasta, la penzille, i bambini, le bambini per i bambini, per la scuola. Abbiamo molti aiutori. Le altre cose che facciamo in Italia sono molte conferenze, organizzazioni. Quindi parliamo. Parliamo con le persone, con l'internet, per fare pubblicità, perché credo che le persone serbiose da Kosovo non hanno una forte voce per dire al mondo ciò che sta succedendo. Quindi magari hanno bisogno di poter sapere meglio nel mondo ciò che sta succedendo. Ora, la nostra società è una società molto rapida. La gente non importa niente, è una società molto individua. Quindi per noi la più importante è questa comunità, la comunità europea. Non solo la comunità serbiana, ma la comunità europea. Ho questi serbiano amici che per me sono come fratelli. Quindi ho un grande contatto con loro.